Crazy for Football a Coverciano, nel primo giorno di raduno della nazionale in vista delle sfide con Portogallo e Stati Uniti, il presidente federale Gabriele Gravina, il CT Roberto Mancini e i calciatori azzurri hanno incontrato le classi, i quinta B e i quinta C del liceo scientifico Rico Fermi di Sulmona, la scuola che si è giudicata il contest, ideato nell'ambito del progetto Crazy for Football at School, promosso dalla FederCalcio con il contributo dell'UEFA attraverso la proiezione per le scuole del film in 12 sale. Il documentario, patrocinato dalla FIGC, vincitore del Davide Di Donatello 2017, nel nastro d'argento 2017, racconta la storia della prima nazionale di calcio a 5 composta da persone con problemi di salute mentale e la loro partecipazione alla prima edizione dei mondiali per pazienti psichiatrici che si sono svolte in Giappone nel 2016. L'iniziativa Crazy for Football at School, rivolta alle scuole primarie e secondarie tra febbraio e giugno 2018, ha registrato la partecipazione di oltre 3.800 studenti, presenti all'incontro con i giocatori della nazionale e anche presidente dell'organizzazione promotrice dell'iniziativa Ecos, Valerio Di Tommaso, lo psichiatra e ideatore del progetto Santo Rullo, il CT della nazionale pazienti psichiatrici Enrico Zanchini, insieme ad alcuni giocatori della squadra che hanno vinto lo scorso maggio a Roma la Dream World Cup 2018, la Coppa del Mondo per persone con problemi di salute mentale. I liceali del Fermi hanno quindi coronato il loro sogno, grazie al dirigente scolastico Massimo Di Paolo e a quanti hanno creduto e sostenuto il progetto.